Per impedire che venga abbenato il nostro mare abbiamo adottato delle misure serie, importanti, non di propaganda politica, perché qui non c'è nessuna propaganda politica, nessuno è bravo. È bravo un solo partito, il popolo calabrese. La depurazione calabrese cambia passo. L'assessore regionale Sergio De Caprio, dopo 18 mesi sotto traccia, ha reso noto il consuntivo del lavoro impostato sulla programmazione e sugli interventi più immediati. Accanto a lui gli assessori Savaglio e Orso Marso e i direttori di Arpacal, l'organismo tecnico di controllo. In Calabria abbiamo tre procedure di infrazione che stiamo affrontando in maniera attenta, consapevole, con tutti i sindaci e con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, che lavora in maniera seria. e abbiamo sbloccato situazioni che erano ferme. Tutte le procedure di infrazione erano interventi bloccati. Li abbiamo sbloccati tutti, dico tutti. Quindi complimenti ai sindaci che hanno interrotto un'assenza sulla problematica, che era il vero problema della depurazione. Abbiamo quindi riattivato situazioni ferme da anni. L'attività più consistente è quella della pianificazione e dell'investimento, che, secondo il Capitano Ultimo, impegneranno 165 milioni su centinaia di interventi, soprattutto di separazione di acque reflue da quelle fognarie. Sono quasi tutti interventi da 500-600 mila euro che saranno realizzati in un anno. Quindi già per l'estate prossima abbiamo 125 interventi chiari. Siamo intervenuti anche su aree che erano sprovviste completamente di depurazione, come Cutro, per esempio, come Carolei, per esempio, come San Vincenzo la Costa, per esempio. e quindi abbiamo affrontato i problemi. Non siamo scappati e non abbiamo fatto propaganda. E non facciamo propaganda. E stiamo riferendo la verità alle nostre famiglie, ai nostri cittadini. Quindi questi interventi sono già seri. Ma oltre a questo, questo è l'anticipo sul Fondo di Coesione e Sviluppo. Ma come sapete, il 29 giugno è stato approvato anche il Fondo di Coesione e Sviluppo. Quindi stiamo raccogliendo altri interventi complessivi per i rimanenti comuni, circa quasi 200 interventi, che sono ridimensionati su 100 milioni di euro. E quindi stiamo presentando anche questi sul Fondo di Coesione e Sviluppo, che non è l'anticipo ma è quello già approvato. Questo si chiama un intervento sistematico, si chiama programmazione. Infine, l'appello a denunciare. Per preservare la Calabria c'è bisogno di ricevere le segnalazioni di ogni situazione sospetta, ogni allaccio o scarico abusivo. Abbiamo chiesto alla Capitaneria di Porto, abbiamo chiesto ai Carabinieri Forestali, alla Guardia di Finanza, abbiamo chiesto e chiediamo alla cittadinanza attiva di verificare, controllare, individuare scarichi fognari abusivi, non censiti. Dove sono i depuratori lo sappiamo. Dove, grazie all'abusivismo edilizio, ci sono scarichi abusivi, non lo sappiamo. Chiediamo la denuncia, chiediamo il monitoraggio, chiediamo ai cittadini di riappropriarsi delle proprie funzioni di controllo e denunciamo gli scarichi abusivi. Michelangelo Iannone, direttore scientifico di Arpacal, ha spiegato il fenomeno della fioritura algale, molto più diffusa sul Tirreno rispetto allo Ionio e tristemente confusa spesso per scarichi fognari. Non sempre è così e per questo sono continui i prelievi e le analisi dei tecnici, i quali puntualmente li diffondono con relativi divieti di balneazione in caso di superamento del livello batterico. Da parte sua il direttore di Arpacal ha invece rimarcato la grande amarezza e la contrarietà per il coinvolgimento di un dipendente nella recente inchiesta dell'Alto Tirreno Cosentino, invitando tutti a non confondere l'errore del singolo con la diuturna attività dell'ente. La vicenda di ieri, l'inchiesta Archimede, ha rappresentato per noi e per l'Arpacal una sberla notevole. Questo voglio dirlo perché è giusto in queste circostanze che si esalti da un lato l'attività della Procura alla quale noi sin da subito abbiamo consegnato la nostra totale piena disponibilità per le attività ulteriori di indagine. Detto questo, è ovvio che io ho il diritto e dovere di difendere l'operato di quasi 300 persone, dirigenti, chimici, fisici, biologi, ingegneri, tecnici che tutti i giorni lavorano e si adoperano per il controllo di tutte le matrici ambientali, non solo l'acqua ma più in generale. E noi siamo e operiamo quasi costantemente al fianco delle procure e di tutte le forze di contrasto della Calabria, in OE, la Guardia di Finanza, le Capitanerie di Porto e il nostro lavoro è soprattutto a questo livello molto apprezzato. Ecco perché quella di ieri noi la consideriamo e lo consideriamo un incidente di percorso. Mi auguro che chi è stato coinvolto possa anche eventualmente chiarire ulteriormente la sua posizione. Però oggi ci tenevo soprattutto a dire questo, che l'Arpacal è un end strumentale della Regione inserito nel Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e svolge con altissimo rigore la sua attività. Non avviene basse temperature, meglio, le aghe crescono, non muoiono e non salgono su.